Sì, buonasera. Non era facile, quindi sono molto soddisfatto di quello che ho svolto durante la partita e di quello che hanno fatto i miei compagni. Era importante vincere perché le altre qualcuna ieri si è fermata. Era il derby, quindi era una motivazione in più e alla fine siamo soddisfatti, però da stasera pensiamo già alla prossima perché mercoledì sarà uno scontro cruciale e dobbiamo pensare a recuperare magari qualche giocatore, recuperare noi e essere pronti ad essere al cento per cento tutti. La difesa funziona sicuramente bene perché tutti lavoriamo per difendere bene, dagli attaccanti al portiere. Se io ho degli attaccanti che fanno un buon pressing sicuramente sono facilitato e avvantaggiato, quindi è merito di tutti. se è due partite che non subiamo gol e vinciamo. Quindi non è una cosa solo da difensore. Il campo di Perugia era meglio rispetto a quello di domenica scorsa, quindi è più facile. Siamo riusciti a sbloccarla subito e quando sblocchi subito la partita contro una squadra che ti aspetta viene tutto più facile perché loro si sbilanciano, quindi hai più occasioni e si è visto perché il risultato comunque ci dice questo. Dobbiamo essere bravi a pazientare sicuramente, però sbloccarla subito è un vantaggio. Cesena è una trasferta difficile, però noi dobbiamo pensare a noi stessi. Se noi siamo al cento per cento e siamo come le ultime partite, certamente avremo più possibilità di portarla a casa.